Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione DTG Versilia. In apertura è in primo piano la situazione lavorativa occupazionale in Darsene a Viareggio e per la cantieristica l'allarme di FIOM CGL sulla situazione di Azimut Benetti, trasferimenti in corso da Viareggio alla sede di Livorno di uffici e reparti, così spiegano le RSU e la FIOM locale e regionale e si chiedono chiarimenti da parte del Colosso della Nautica. Sentiamo i particolari in questo primo servizio. Sono sempre più insistenti le ipotesi di trasferimenti di uffici e reparti da Viareggio verso Livorno. È un modo elegante e indiretto per licenziare lavoratori? È questo il vero obiettivo aziendale? Sono questi gli interrogativi posti dall'Assemblea indetta dalla RSU all'interno del cantiere Azimut Benetti di Viareggio. Dopo più di un mese dall'ultimo incontro con la direzione aziendale, ancora non si conosce l'esito della ricerca fatta dalla Boston Consulting per la riorganizzazione annunciata, così scrive la RSU nel volantino diffuso all'Assemblea, mentre continuano i licenziamenti dei dirigenti, anche quelli in funzione chiave che non vengono sostituiti. Ce n'è in abbondanza, proseguono le RSU, per essere preoccupati come lavoratori e come sistema industriale di Viareggio. È duro anche il commento di Massimo Braccini, segretario della FIOM CGL Toscana. La più grande azienda nautica al mondo svela un sistema produttivo fallimentare, fatto sempre più di appalti e di impiegati. A Viareggio, prosegue Braccini, scompaiono gli addetti alla produzione. A Livorno mancano le professionalità per portare a termine le commesse. Una situazione, quella descritta dai sindacati, che si inserisce in un quadro in realtà di forte ripresa del settore. La cantieristica a Viareggio ha infatti trainato il boom dell'export in provincia di Lucca nel secondo trimestre 2017. La nautica ha registrato un eccezionale più 54,3% rispetto al 2016. Nel primo trimestre aveva segnato addirittura un più 81,6%. La FIOM CGL chiede di mettere in campo azioni che servono a consolidare la capacità produttiva, senza avere come unico obiettivo la riduzione dei costi. In porto e nei cantieri navali c'è ancora il problema della sicurezza per i lavoratori. La regione toscana corre ai ripari e parte con una campagna di informazione rivolta ai lavoratori e anche alle aziende. Vediamo. L'Unione fa la sicurezza. È questo il claim della campagna lanciata dalla regione toscana per sensibilizzare sul tema degli infortuni nei porti e nei cantieri navali. In Toscana nel 2015 sono stati 238 gli incidenti ai danni di lavoratori, registrati soprattutto nei cantieri navali. Rispettare le regole e lavorare in sicurezza protegge i lavoratori dagli infortuni e difende la reputazione delle aziende, oltre ad abbattere i costi che ricadono sulla collettività. Questo, in sintesi, il messaggio. Lavorare intorno a una nave vuol dire muoversi in sincronia, condividendo le operazioni e la responsabilità, proprio come in un'orchestra. E da questo concetto è partito il videospot sociale girato al Porto di Livorno, che da lunedì 18 settembre sarà in diffusione nei prossimi giorni anche su Noi TV e Rete Versilia News. Nel porto di Livorno nel 2016 abbiamo avuto oltre 150 infortuni, nel porto di Carrara ne abbiamo comunque avuti una quindicina, uno l'abbiamo avuto nel porto di Piombino, un infortunio mortale. Quindi comunque dati pesanti che ci dicono come il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro pesi anche sul settore dei porti. E quindi l'ultimo pezzo della campagna di comunicazione per la sicurezza è rivolto proprio alla sicurezza nei porti. Il piano di comunicazione prevede anche un arredo urbano con pensiline e dinamica bassa per 14 giorni nei comuni interessati. In Versilia, a Viareggio, Forte dei Marmi, Camaiore, Pietrasanta. È potabile l'acqua torbide e malodorante che hanno segnalato i residenti di via dei Frassini, a Viareggio, località Migliarina, segnalazioni girate a Gaia. Erano state eseguite analisi private. Un istituto di Forte dei Marmi per conto dei residenti della zona risultava non potabile, esito sfavorevole. Invece oggi sono arrivate le analisi di Gaia e risultano positive. Dunque, secondo la società di gestione del servizio, l'acqua è potabile. Analisi eseguite sia internamente alla casa in questione, sia esternamente alle abitazioni e anche sulla rete acquedotto nella zona circostante. E tutto per Gaia risulta regolare. Nei prossimi giorni Gaia proseguirà con scarichi, lavaggi delle tubazioni e altre analisi. Ma l'acqua resta potabile. Queste immagini che vedete ci sono state inoltrate da alcuni cittadini residenti proprio in via dei Frassini, nella zona della Migliarina. E questo però è il colore che presenta l'acqua del rubinetto. Adesso andiamo a Pietrasanta con la città senza sindaco Malleni. Va avanti però l'azione dell'amministrazione comunale retta dalla vicesindaco Daniele Mazzoni. Oggi è stato portato a compimento l'accordo con Cop e Conad, raggiunto il via libera della Giunta per l'ampliamento dei due supermercati in cambio della realizzazione a costo zero di due rotatorie. Il progetto era già stato vagliato in dettaglio dai tecnici del Comune e ha ottenuto il parere favorevole dell'ufficio urbanistica e oggi della Giunta. Le carte passeranno in Commissione urbanistica, già convocata per il 21 settembre, e poi in Consiglio comunale il 22, convocato anche per discutere delle dimissioni del sindaco e poi per disbrigare questo importante provvedimento. Ampliamento dell'esercizio commerciale, due rotatorie importanti, questa è quella che vedete, che Conad finanzierà all'inizio del cosiddetto Ponte della Madonnina e che andrà a risolvere uno dei problemi più importanti della viabilità. Una seconda rotatoria invece sarà finanziata da Coppa all'incrocio con il Viale Apoa, tra l'Aurelio e il Viale Apoa. Una svolta per la città, ha detto il vice sindaco Daniele Mazzoni, questi accordi ci permetteranno di realizzare opere cruciali. Siamo appienamente legittimati a farlo anche in questa fase, chi polemizza non sa di che cosa sta parlando. Ed è Rossano Forassiepi, capogruppo del PD, ad aver diffidato in quest'ora il vice sindaco ad andare oltre la funzione di ordinaria amministrazione. È un atteggiamento poco corretto e poco rispettoso delle istituzioni in questo disordine politico e istituzionale seguito alle dimissioni di Malleni. Vigileremo sugli atti compiuti da quello che resta dell'amministrazione Malleni questi 20 giorni e poi a stretto giro la controreplica di Mazzoni che insiste siamo pienamente legittimati ad operare. Tant'è che è stata inaugurata oggi una mostra in municipio a Pietrasanta con un progetto proprio dell'amministrazione uscente, dobbiamo dire, del sindaco Malleni che lega la piccola Atene con Saint-Tropez e al taglio del nastro proprio il vice sindaco Daniele Mazzoni. Vediamo. Un omaggio all'icona del cinema, un tributo alla diva che ha saputo reinventarsi e svincolarsi dei cliché. Pietrasanta celebra Brigitte Bardot con la mostra dei ritratti firmati dalla penna del fumettista Milo Manara. Milo Creobardot è infatti il filo conduttore che unisce le 16 immagini esposte nell'atrio di Palazzo Comunale, da oggi e per le prossime due settimane. Un evento legato alla realizzazione della scultura in bronzo dell'attrice francese in via d'ultimazione all'interno della fonderia Mariani. L'opera, dal titolo Monumento a Brigitte Bardot, è stata creata sul modello disegnato da Manara e attualmente in fase di patinatura sarà inaugurata il 28 settembre prossimo a Saint-Tropez, città in cui Brigitte Bardot ha scelto di vivere. Presenta al taglio del nastro una delegazione formata dal marito dell'attrice, dall'assessore al turismo di Saint-Tropez e da Claude Maniscalco, direttore del settore turismo del comune francese. Per noi sarà un modo di accogliere degli eventi a Saint-Tropez di artisti di Pietrasanta e così mostrare la qualità del lavoro fatto qui da secoli adesso. Pietrasanta è veramente una destinazione molto conosciuta per l'arte, la qualità degli artisti che vengono. Abbiamo adesso sul piazzale, avremo il 28 settembre prossimo, la statua di Bardot fatta a Pietrasanta. Al vernissage della scultura in Costa Azzurra ci sarà anche il vice sindaco Daniele Mazzoni che regge il governo cittadino in questi 20 giorni di amministrazione ordinaria seguita alle dimissioni del sindaco Massimo Mallegni. Punto principale, il cuore del paese ospiterà una statua realizzata dai nostri artigiani e sarà il primo passo per un ulteriore sviluppo perché proprio il 28 settembre verrà siglato un importante accordo di interscambio culturale che porterà Pietrasanta e Saint-Tropez a fare un percorso comune nel nome della cultura. Voltiamo a pagina, il 73esimo anniversario dalla liberazione di Massarosa in città. Si è celebrato questo appuntamento in mattinata con un momento di ricordo e commozione alla presenza di alcuni personaggi legati alla storia e alla resistenza e testimoni oculari dei giorni della liberazione come Iole Lipparelli e Elio Del Corto sopravvissuto alla deportazione in Russia, presente l'amministrazione comunale vedete il sindaco Franco Mungai, deposizione di due corone alla lapide che ricorda la liberazione e il cippo commemorativo nella sala consigliare ci sono stati poi gli interventi istituzionali. Per la cronaca, gli agenti del commissariato di Viareggio hanno scoperto due piante di marijuana nel giardino di un'abitazione in centro a Camaiore. I poliziotti hanno cercato il proprietario dell'abitazione e delle piante. Si tratta di un camaiorese di 48 anni, è stato trovato via telefono, è stato contattato in questo modo e ha messo il possesso e la proprietà. Grazie all'intervento della polizia scientifica per i rilievi, le due piante, una alta 1,80 m sono state poste sotto sequestro. L'uomo si è presentato in mattinata in commissariato e è stato indagato in stato di libertà per produzione e detenzione di droga. La cultura adesso con il 45esimo premio Satira Politica di Forte Remarmi che porta in Capannina al Forte personaggi di altissimo livello, anche della televisione, e resta alta l'attenzione anche sul fronte sicurezza. Vediamo il servizio. Capannina di Franceschi blindata per ospitare la cerimonia di consegna del 45esimo premio Satira Politica di Forte Remarmi. I grandi nomi di richiamo di questa edizione, complici le nuove disposizioni sulla sicurezza internazionale, hanno spinto la Questura e la Prefettura a proteggere il locale con fioriere e barriere. Con ospiti come Fiorello, Ficarre Picone, Liza Gionelli, vignettista del New Yorker, il giornale francese Les Cannards & Chenets, i creatori di Le più belle frasi di Osho, l'Istituto Lupe, il fenomeno Umarels e tanti altri presentati da Serena Dandini. Anche quest'anno il premio, sempre più internazionale, porta in Versilia i professionisti della risata intelligente, scovando nuovi fenomeni e omaggiando i personaggi più amati dal grande pubblico. Tutte cose molto diverse, sistemi diversi, linguaggi diversi, però con uno spirito comune. Questo è bello di questo premio, che sembra all'inizio, quando leggi la lista dei premiati, dici, ma che ciazzecca, direbbe qualcuno, no, questo con quest'altro. Poi in realtà, vedi che è un disco come la tesi di dottorato sulla satire ai tempi del fascismo, tutte hanno un filo comune che le unisce, che è un linguaggio per dare, come dire, un controcampo, un altro punto di vista contro, diciamo, la lettura unica della realtà. Tra i premiati intervenuti nella conferenza stampa di anteprima, c'è il direttore del giornale satirico francese Les Cannards & Chenets. Il tono ironico sempre, mantenere una scrittura, un tono pungente, chiaro, non aggressivo, non provocatorio, ma che fa ridere e sorridere. E' il misto di questi due punti che, secondo me, può spiegare il suo senso del canale. Nelle prossime edizioni del telegiornale vi mostreremo anche le immagini della cerimonia di premiazione di questo premio satira 2017, che poi trasmetteremo integralmente nelle prossime settimane. La Versilia e la Lucchesia in collina sono disseminate di fantastiche e antiche ville e dimore storiche e adesso c'è anche un corso per formare professionisti nell'accoglienza e nella valorizzazione di queste strutture. Sentiamo di cosa si tratta. Lo Spirito del Luogo, il corso curato da Fondazione Campus, interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana, è stato presentato nella sede universitaria di Monte San Quirico. Il progetto formativo si rivolge a 20 giovani che vogliono lavorare nel turismo. Al termine del percorso verrà loro riconosciuta la qualifica di tecnici per la valorizzazione e promozione di ville e dimore storiche del territorio. Ciò gli consentirà di operare nella progettazione di itinerari turistici integrati, nell'organizzazione di eventi, nell'animazione locale e nella commercializzazione turistica. Il corso partirà ad ottobre e terminerà a giugno per una durata complessiva di 800 ore, 530 ore di lezioni, lavoratori e workshop in aula e 240 ore di stage. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore totali. Le lezioni si svolgeranno nella sede della Fondazione Campus. Per poter accedere al percorso formativo è necessario di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, di competenze informatiche e di una buona conoscenza della lingua inglese. Domenica, gran finale per il Camaiore Film Festival con la dedica speciale a Ugo Tognazzi. Sentiamo. Due giornate di proiezione dei cortometraggi arrivati da tutto il mondo e adesso i motori si scaldano per la serata finale. Il Camaiore Film Festival edizione 2017 incassa il successo di pubblico e il gradimento per le opere selezionate che spaziano dal dramma alla commedia all'impegno sociale fino all'animazione. Dopo le giornate di proiezione, questo venerdì e sabato, per la prima volta ospitate nel rinnovato cinema Borsalino, si conoscerà anche il verdetto degli spettatori che andranno a premiare uno dei cortometraggi con il riconoscimento del pubblico. Sarà dunque la giornata conclusiva, sempre al Borsalino, domenica, a chiudere in grande stile, a partire dalle 18, la rassegna cinematografica camaiorese a ingresso libero. Si inizia con l'atteso focus su Ugo Tognazzi, che vede l'intervento in videoconferenza del figlio Gianmarco, moderato dallo scrittore Sebastiano Mondadori, e con l'intervento dello storico del cinema Umberto Guidi e dell'organizzatrice di spettacoli teatrali, produttrice Barbara Gualtieri. Saranno presentate poi in anteprima due opere di ampio respiro. Il nuovo film Balla per me, del giovane talento versiliese Andrea Bonuccelli, che tratta il delicato tema del cyberbullismo. A seguire incontro con il regista Luis Nero, autore del lungometraggio The Broken Key, un ardito connubio tra fantascienza e storia, che unisce ad un giovane e interessante cast italiano attori del calibro di Franco Nero, Christopher Lambert, Gerladin Chaplin e Michael Madsen. E alle 20, la consegna dei premi ai cortometraggi vincitori delle varie sezioni del Camaiore Film Festival. Andiamo adesso a Seravezza, dove si è concretizzato lo scambio sculturale, come è stato definito, ve lo abbiamo presentato nei giorni scorsi. C'è stato l'incontro annunciato in mattinata in municipio, a Seravezza con la delegazione di Wai Lien, cittadina di Taiwan. Il sindaco Riccardo Tarabella ha dato il benvenuto agli ospiti, insieme al vice sindaco Valentina Salvatori, il consigliere Lorenzo Gabrielli e il presidente del Consiglio Comunale Riccardo Biagi. Scambio di doni e un primo contatto tra le due città, approfondito poi nel pomeriggio con la conferenza su tradizione e innovazione nella scultura alle scuderie Granducali. Ed è un percorso di condivisione di gemellaggio che è stato sostenuto anche dalla fondazione Arcad e proseguirà un modo per rinsaldare un rapporto nato da una convenzione del 2003. E qua vediamo alcune immagini di questa giornata interculturale. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive. Ben ritrovati, c'è il calcio in primo piano questa sera e il punto con le partite di Serie D di questo fine settimana per le Verseriesi. Sentiamo Roy Lepor. Per il campionato di Serie D trasferta insidiosa per il Viareggio che va a far visita al San Donato Tavarnelle, squadra ben costruita nel mercato estivo, soprattutto in mezzo al campo. Le zebbe di Carlo Bresciani vogliono mantenere la striscia positiva e puntano sul tridente Lamioni, Vanni Galligani. In difesa recupero di Giovannelli dopo la squalifica che prende il posto di Citti. Dirige la Valentina Garofalo di Vibo Valencia, trasferta per il Re alla Forte Querceta a porte chiuse sul campo della Vagna. E' una sfida questa fra due squadre che non hanno ancora vinto. Guido Pagliuca dovrà fare a meno di Kautz per squalifica. Il Seravezza Pozzi gioca con il Monte Catini sul neutro degli Olivetti di Massa per l'indisponibilità del buon riposo. Settimana impegnativa per i ragazzi di Vangioni che poi mercoledì tornano in campo a Scandicci per recuperare la partita sospesa quando vincevano 1-0 per l'infortunio all'abito e poi domenica prossima l'impegno all'arma di Taggia contro l'Argentina. Invece il Givi Borgo dopo la sconfitta subita allo stadio dei Pini di Viareggio ospita la formazione del Sesti Levanti dell'ex Cristiana Amorosa allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca. Il Givi Borgo dovrebbe essere schierato con il 3-5-2 con il mister Venturi che ha tre dubbi per il riparto. Nonostante la sconfitta come detto a Viareggio si attende il pubblico delle grandi occasioni. Facciamo una brevissima pausa tra poco di nuovo insieme terza parte del telegiornale. Ben ritrovati terza parte del telegiornale non ci sono aggiornamenti di cronaca vi ricordo il nostro sito web reteversiglianews.com che potete consultare per i fatti principali del giorno rivedere le notizie più importanti della giornata e rimanere in contatto e aggiornati sui fatti online. Prima di salutarci ci sono gli auguri anche questa sera auguri che vanno a Di Viera Nelli scrittore di Viareggio che festeggia oggi il suo compleanno arrivano gli auguri da parte di parenti e amici. Aguri invece a Euro Morgantini di Bargecchia compie gli anni oggi auguri da parte dei conoscenti e dei familiari. E ancora auguri di buon compleanno ad Alberta Puccinelli di Massarosa oggi è il suo compleanno arrivano a lei tantissimi auguri da parte degli amici e dei parenti. È tutto davvero per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.